su me sta c'è un problema non vedo un cazzo con questi occhiali tutto bene sus stai tranquillo almeno eviti tutti gli spoiler incredibili perché dobbiamo vedere una cosa incredibile in questo episodio e si su me sta però non vedo niente la vedi la gna gna sus a quella sempre su me sta e allora vediamo vediamo la puntata cosa vedremo oggi ed eccoci qui incredibile in questa nuova puntata del review pazzesco incredibile andiamo da sus su me sta e qui su me sta dove sei sus dove sei non ti vedo sus guarda questi deficienti che ci sono messi gli occhiali cameraman stai zitto ci vediamo benissimo con questi occhiali cosa dici cameraman su qui a cameraman su me sta dove sei ecco ti ho trovato sus tutto bene sus tu guarda le vada più quel cazzo di occhiale ecco vi ho posizionato contenti a cameraman intanto devi stare molto calmo ve lo sus si cameraman intanto stai calmo che per colpa tua che escono pochi video in queste settimane succhia succhia cameraman come ti permetti noi stiamo provando questi occhiali fichissimi guarda che sono belli questi occhiali incredibili tu non hai niente invece succhia cameraman ve lo sus succhia guarda quanto siamo carini con questi occhiali incredibili però non vediamo un cazzo comunque questa poi la mettiamo a inizio video incredibili avete visto la sigla incredibile delle lepioni dopo quattro mesi siamo riusciti a fare la sigla incredibile delle lepioni con questi occhiali incredibili però non vediamo niente quindi adesso li vediamo e partirà incredibile il video quindi taglio incredibile e a tra poco ed eccoci qui incredibili tornati ci siamo tolti quegli occhiali di merda che però ci servivano per fare la nostra sigla incredibile siete contenti incredibili così finalmente anche le lepioni incredibili hanno una sigla incredibile che non siamo mai riusciti a pensare una sigla intelligente come le nostre grandi teste in quattro mesi però alla fine ci siamo riusciti wow vero sus è venuto in mente niente come sigla per le review on e alla fine ringraziando mano saluta mano oggi mano è nervosa non connette vabbè e ci ha dato un consiglio e abbiamo fatto questa sigla incredibile molto sus anzi faccio una cosa che non faccio ne tanto tempo primissimo piano sus e adesso abbiamo anche la sigla per le review on incredibili che siamo arrivati all'undicesimo episodio incredibile assurdo vero su me sta incredibile le review on incredibili e come al solito diciamo il nostro motto quotidiano delle review on cioè che noi continuiamo a fare review on di cose che vogliamo o giocare o guardare o provare e ancora non siamo riusciti a fare un cazzo neanche siamo riusciti a vedere coca in urso che neanche è uscito mi sa e però un sacco di film sono usciti e non siamo riusciti mai ad andare al cinema e quindi niente ormai le review on sono diventate praticamente un format dove vediamo cose incredibili e commentiamo a caldissimo e poi non le vediamo e ne le giochiamo perché siamo dei poveretti ecco molto meglio con questo spero che dici che mano è nervosa e mano rispondi oggi mano è arrabbiata insomma è stato l'avevamo detto nel video scorso che dovrebbe essere uscito il primo episodio di godverso on the road e cameraman conferma vi ricordate quando a gennaio purtroppo ci sono state le settimane con pochissimi video ecco purtroppo per colpa di questo camera ma è maledetto siamo un po' in difficoltà con i video quindi probabilmente vedrete tipo un video a settimana per qualche settimana infatti stiamo provando a registrare questa review on incredibile tattica da lanciarvi incredibile in un giorno che non escono i video perché noi ci stiamo concentrando incredibile e sulle puntate di godverso on the road dovrebbe essere uscita la prima non si è tutto andato a secondi piani e stiamo editando la seconda quando stiamo creando questo video incredibile però purtroppo non riusciamo a connetterci bene con venite e guglielmo e quindi se non riusciamo a organizzarci bene con venite e guglielmo e tutti quanti camera numero 2 non riusciamo a fare incredibili i video pazzeschi di godverso on the road esatto purtroppo dovete avere pazienza questo periodo con i video mannaggia la miseria però io stavo dicendo che mano prima è sparita per due settimane e poi è tornata in quel video lì però è agitata sono messa è agitata è agitata mano questo sicuramente ha a che fare con noi mica dimentichiamo le cose nella puntata dell'antishow avrete visto che nel finale quel maledetto bruco Alessandro il bruco succhia e ci aveva lanciato una sfida lo dovevamo incontrare nella santa arena incredibile però poi noi siamo andati nella settimana del godo e sentivamo delle presenze un po' sospette che ci seguivano e poi non ha più detto niente quel bruco di merda e noi lo dobbiamo anche andare incontrare però per adesso insomma la situazione è problematica quindi probabilmente mano è sparita a sospere e è andata a indagare mano si è andata a indagare? è di poche parole insomma continua a urlare pericolo pericolo comunque la situazione è quei problematica ci sono misteri ancora da risolvere e non ci si può rilassare una settimana del godo che subito torna nei problemi incredibili comunque tranquilli vi teniamo aggiornati per la situazione nonostante mano è preoccupata mano è contattato quei chizi trucio e robo strano a quanto pare non riesce più a mettersi in contatto con loro qui c'è la situazione sta a problem... vabbè ne dovremmo parlare tra di noi incredibili comunque benvenuti incredibili l'undicesimo episodio delle revioni incredibili cosa vedremo oggi? vai su su allora oggi perderemo due cose molto su su allora vedremo innanzitutto il trailer incredibile e qualche anche gameplay di un altro gioco e ormai sapete che a noi ci piacciono i giochi Genshin Impact Like abbiamo visto un sacco di cose abbiamo visto Zealous Zone Zero e Onkai volevamo pure fare Tower of Fantasy e Punishing Grey però purtroppo non ci siamo riusciti comunque in futuro magari ne riparleremo incredibile e quindi vedremo il trailer incredibile di un altro nuovo gioco pazzesco che è caricato a pallettoni perché dovrebbe essere il nuovo Genshin Like però ogni volta che creano un Genshin Like il game fallisce perché Genshin Impact è intoccabile ve lo so come sta uuuuuh incredibile Genshin Impact incredibile lo sapete che noi abbiamo un buon rapporto con la Mioio incredibile perché ci segue la Mioio se non l'avete ancora capito la Mioio eeeh ci segue incredibile ed è anche iscritta al nostro canale perché ridi camera? non ci credi che la Mioio sia iscritta al nostro canale incredibile? no non ci crede il camera guarda che infame camera ve lo so se eeeh camera non è giornata eh ecco ah tra l'altro non vi abbiamo detto una cosa incredibile perché giustamente non avete visto il secondo episodio di Godover Sondro e Sussa ci ha perdonato ah vabbè questa cosa in realtà non vogliamo fare spoiler perché non è ancora uscita la puntata comunque diciamo che io ero molto arrabbiato per essere rimasto solo qui con tutti i pericoli però diciamo che sua maestà mi ha regalato una cosa così Suss eh eh così Lude eh eh che allora ho perdonato sua maestà incredibile e il camera per avermi lasciato solo quindi sono tornato di buon umore carico come non mai ecco e succhiate ecco volevamo dirvelo per competenza quindi incredibile vedremo il treno incredibile di questo nuovo gioco incredibile che si chiama Watering Waves perdonate la pronuncia incredibile però noi non è che siamo bravissimi e ballo per voi quindi si chiama Watering Waves che dovrebbe essere un gioco creato da due publisher incredibili cinesi incredibili anche loro che non hanno collegamenti con Tower of Fantasy però hanno collegamenti con un altro gioco che si chiama Punishing Ray incredibile che è un altro gioco pazzesco pure di quello che vorremmo fare una review on incredibile e quindi vedremo il trailer di questa cosa e un pochino di gameplay e poi vedremo un'altra cosa incredibile vai su su e poi per competenza vedremo anche il trailer di Barbie e voi direte perché vi vedete il trailer di Barbie? perché secondo noi c'è del sus in Barbie cioè parliamoci chiaro chi cazzo vedrebbe un un film fatto su su qualche cosa che puzza di Godoverse però Barbie vabbè la lasciamo perdere fatto da attori umani in carne e ossa però non ossa come su maestà l'avete capito la battuta incredibile di sus mamma mia sus quanto è incredibile e insomma c'è del sus ecco insomma ci siamo capiti quindi vedremo queste due cose incredibili quindi taglio incredibile e partiamo con Watering Waves incredibile quindi eccoci qua vediamo il trailer incredibile di Watering Waves che il gioco non è ancora uscito però vediamo un po' cosa ci dice questo trailer mi raccomando sus insomma non ho ancora detto niente e però devi tenere a base i tuoi istinti dagli Hood Champion comunque vediamo 3 2 1 mamma mia sono messo all'ecco l'ombelico basta sus calmati non è neanche iniziato il trailer waifu io ha congelato questa si quindi è craio questa sicuramente insomma già posso dire che c'è un sacco di gnagna da gustare su scalmo ci manca solo che fanno vedere una loli è vero non hanno ancora fatto vedere una loli vabbè non commenterò questa cosa non l'abbiamo visto giuro giuro che non l'abbiamo visto non dico niente io mi dissocio comunque ma che swag sus sei di poche parole se commento quello che ho appena visto ci chiudono il canale vedi sus commenta di gente yan yan ma il design è molto kawaii è molto questa cosa che va tantissimo genshin watering waves damn ace gamer sus cosa ne pensi devo pensare bene le mie parole su me sta perché poi mi dice sempre che insomma sus ex ha smesso di funzionare sus riprenditi commento incredibile insomma intanto piattorico mi ci ficco come al solito perché mamma mia lecco tutto e insomma non ho detto niente ho detto solo la verità uffi basta scolacciare i sus comunque lecco tutto ecco lecco tutto ecco se posso fare un commento incredibile sus ti prego devo mettere la musa su da un commento finale insomma questa la prego forse io non sei scappato come lui se una kawaii girl mi regalasse del cibo su questa parli lei per favore mamma mia mano appunto non tagliamoci un attimo da sus incredibile comunque allora l'inquadratura finale sembra proprio genshin impact style incredibile quando sei a monstack incredibile e vedi le colline incredibili comunque per il resto incredibile ti fanno vedere un po' tutti i personaggi come al solito la gnagna è proprio lanciata a schermo incredibile adesso siamo seri incredibili in questi giochi la gnagna e i bei maschioni incredibili sexy e se non ci stanno che sommonate a fare parliamoci chiaro ma gnaggia a voi comunque il 3 ti fa vedere un po' dei personaggi incredibile c'è la protagonista incredibile che è la classica tizia che cliché che fa sempre il ritardo e corre gli manca solo il pezzetto dei pane in bocca insomma è partito a lei il romano stavolta e poi niente si vede la milfona che ghiaccia tutto e l'altra che insomma quella tizia vestita di azzurro incredibile la loli vi giuro che non l'avevamo visto sto trailer è completamente a caso sta cosa però è talmente scontato che ci deve essere una loli kawaii in qualsiasi gioco è un cliché incredibile e quindi ci abbiamo indovinato meglio non dire niente se non ci stiamo facendo la forza da soli io mi dissocio comunque incredibile e niente poi c'è lo swag e niente cioè lui fa tipo cose a Nemo tipo parlo in termini di Kenshin Impact capitemi e evoca quei cosi brutti ma niente incredibile comunque vediamo un pochino di gameplay di questo gioco eccoci qua vediamo un pochino di gameplay questo è uno dei gameplay più recenti vediamo un po' com'è Sus che ne pensi è letteralmente Kenshin Impact con forse una grafica migliore beh sì effettivamente guardate guardate l'interfaccia beh forse questa è anche standard in questi giochi incredibili eh ma c'è pure il deltaplano c'è anche il coso c'è il rampino incredibile il rampino non c'è niente attenzione ma ha salito ha salito le scale correndo Sus è meglio di Spider-Man questa tizia vabbè non so cosa che non so mamma mia lecco tutto abbiamo capito che a Sus piace questa roscetta che a quanto pare non è la main protagonist però ci sono dei coccodrid ci sono dei vediamo un po' di combattimento incredibile ok le animazioni sono incredibili beh ok i colori sono molto accesi ok questa è l'ultimate ok che poi era identica a quella di Zenless Zone Zero non so se vi ricordate quello che sparava tutto incredibile è già finito il combattimento vabbè un trash mob Sus cosa ne pensi voglio un commento costruttivo per i nostri followers insomma questa roscetta mamma mia lecco tutto vabbè l'ho già detto però lo ridico oh ecco fatto vabbè non sto a dire che la coincide vabbè c'è il bestiario incredibile non si capisce un cazzo sembra forse puoi mettere gli amuleti come in Genshin ripeto è molto Genshin cosa che cazzo stanno facendo cioè puoi evocare gli animali che uccidi esteticamente non lo so un sacco di misteri per adesso ok quello forse è una delle poche feature veramente nuove di una mezz'ora ragazzi adesso vediamo qualche altro minuto e poi vediamo di Barbie incredibile ok c'è lo scanner identico a Genshin Impact il vostro schedo incredibile sta provando a raccontarvi delle cose e Sus guarda solo le chiappette delle signorine ok ok figo l'effetto è fighissimo attenzione attenzione ok credo ci siano elementi incredibili tipo lei ha fuoco lei ha acqua e quella sembrava Gio ok ci sono degli artefatti incredibili ok ok è figo il golem però attenzione ok attenzione attenzione what what aspetta parliamo un attimo eccoci qua abbiamo bloccato un attimo perché non non capivamo questa feature incredibile praticamente quando tu uccidi un nemico ottieni robe diciamo frammenti incredibili che poi avete potete mettere su ogni personaggio incredibile e tipo potete usare il potere dei nemici che abbattete tipo usando il potere del golem che avete appena eliminato tipo correte veloce e fate tipo spiare incredibili manco foste Roman Reigns ecco questa è una feature originale attenzione su che ne pensi se di poche parole allora su me sta vabbè per carità io apprezzo come al solito le feature nuove e quando sono mischiate alla gnagna il vostro sus è contento ecco quindi mi fido di lei su me sta mi fido di lei e vabbè ci fidiamo comunque 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 da tenere sotto questo waterway abbiamo visto qualche altro minuto incredibile del gameplay incredibile le animazioni sono molto fluide ci sono un sacco di slash incredibile e ci sono alcuni effetti che effettivamente sono meglio di Genshin Impact anche da vedere bisognerà vedere com'è però da giocare perché se da giocare è identico a Genshin Impact non pensiamo che molta gente che è legata a Genshin Impact possa passare a giocare a questo gioco incredibile come è successo per Tower of Fantasy Tower of Fantasy per la prima settimana aveva fatto numeri incredibili perché c'erano andate a giocare tutti quelli a Genshin Impact è brutto dopo una settimana sono tornati a giocare a Genshin Impact perché Genshin Impact ha dei difetti incredibili però non potete dire che non rimarrà un qualcosa di incredibile nel mercato videoludico incredibile mi sento salvato andiamo da Sus mi dispiace di essere stato di poche parole però qui c'è poco da dire c'è da provare una frase un po' ambigua però ci siamo capiti comunque il taglio incredibile andiamo a vedere Barbie a vedere il trailer di Barbie noi avevamo visto il primo questo dovrebbe essere il secondo trailer incredibile che dura due minuti vediamo un po' Sus e propositi per questo film incredibile Margot Robbie mamma mia step on me beh sì effettivamente è una gran bella ragazza incredibile guarda pure Mano è scesa vabbè comunque vediamo un po' questo trailer incredibile sperando che non ci diano il copyright però ho paura che ci daranno il copyright sono questa percherina piedini ma cazzo ma il primo frame fatevi vedere i piedini di quella ma dai ciao Barbie ciao Barbie ciao Barbie ciao Ken ma quella era Ryan Gosley è vero c'è pure lui che fa Ryan Gosley che fa Ken lei sembra Harley Quinn però è inutile che gli danno un ruolo diverso Sus ti prego insomma qui c'è dalle cacce hanno fatto dei piedini e niente lasciate perdere Sus e fissate i piedini da quel mondo reale da quella what the fuck che cosa ci fai qui vengo insieme a te hai portato i rollerblade non esco mai senza letteralmente boh se vuoi fare fuori lui devi prima fare fuori me io vi farei fuori tutti e due insieme basta Ken nessuno deve fare fuori nessuno io non so cosa dire assurdo io veramente non so cosa dire ora capisco perché bened e guglian moritevano quando gli abbiamo detto che volevamo vedere il trailer di Barbie no vabbè non ho parole Sus ti prego mamma mia sono messa a piatto ricco mi ci ficco in tutti i sensi camera passami il cuscino camera passami il cuscino oh ecco fatto ora Sus se vuoi commentare no no sono messa no che palle io voglio soltanto fare cose uffi cazzo comunque vabbè lasciate perdere Sus ho dovuto coprire perché altrimenti oggi non connette oggi Sus non connette voi lo sapete che i Sus in primavera vanno sculacciati però ultimamente ancora di più che palle ecco lasciamo perdere vedo ora che l'estate almeno i Sus tornano normali incredibili e sono meno liud champion incredibile comunque questa cosa è incredibile è in commento cioè letteralmente primo freno no comunque qui c'è del Sus veramente adesso a parte di scherzi Sus per favore recupera il tempo che non hai detto nel video quindi per favore di un commento incredibile su questo strumento vai uffi parliamoci da uomini a Godover allora qui c'è del Sus non è possibile che questa roba qui non nasconda qualcosa di incredibile cioè cioè non lo so qui c'è veramente un qualcosa vi immaginate c'è tipo non lo so un'invasione dal mondo Barbie nel mondo reale che cazzo ne so cose strane per carità non credo diventi uno splatter da quattro soldi però qui c'è o dell'or psicologico quello che vi pare ma qui c'è c'è della roba non lo so mi mette ansia ecco quindi lecco ma con cautea ecco meno male Sus comunque sì effettivamente qui c'è qualcosa di Sus cioè si nasconde una trama incredibile poi con l'affare mondo reale non è che questi due birbanti tipo dal mondo di Barbie in qualche modo finiscono nel mondo reale perché se ci fate caso il Ken che insomma Ken che si vede alla fine è molto più aggressive incredibile nei confronti dell'altro Ken però secondo noi ma questi vanno nel mondo reale e poi ritornano e diventano umani e non so più Barbie o Ken non lo so qui c'è del Sus incredibile comunque e non lo so cioè veramente mette ansia ecco lei ti sorride sempre così lei è Harley palesemente questa è Harley Quinn che gli hanno detto imita Barbie ma è sempre Harley Quinn non c'è niente da fare Margot è Harley Quinn è inutile che ci giriamo è da mangiare gli abbracci incredibile non ho detto niente e niente un po' ansioso questo non lo vorremmo vedere tantissimo come tante altre cose e non riusciamo ad andare al cinema cavolo comunque niente ok comunque direi che il video può finire qui noi vi ringraziamo incredibile per tutti i follower che stanno aumentando su Instagram siamo arrivati a 60 iscricchi anche su Instagram incredibile stiamo andando per le 9000 visual totali per il canale noi vi ringraziamo incredibile vi ringraziamo per il successo del primo episodio completo di Godverse on the road incredibile e speriamo che tutti gli altri episodi escano con calma e soprattutto che ripeto portate pazienza queste ultime due settimane finali di aprile purtroppo la prima di maggio mannaggia la miseria potrebbero esserci meno video incredibili mannaggia la miseria comunque torneremo carichi per maggio incredibile il vostro scheda vi saluta vai sus e il vostro sus che sta per essere sculacciato vi saluta mannaggia e vai mano saluta mannaggia mano è nervosa oggi vabbè chissà perché comunque niente quindi taglio incredibile questo episodio dovrebbe uscire prima o dopo il secondo episodio di Godverse on the road quindi portate pazienza perché poi usciranno anche il terzo e il quarto episodio quindi non lo so se riusciamo a registrare anche altre cose incredibili purtroppo abbiamo i tempi stretti per colpa di camera quindi taglio incredibile e ci vediamo al prossimo episodio incredibile ok ok camera possiamo andare sus che succede non lo so su me sta a mano l'avevo troppo preoccupata mano forza mano dobbiamo andare a mangiare è tardi forza mano sus chiama mano mano vieni mano pericolo non c'è niente qui non c'è niente qui vabbè non lo so sus andiamo perché per colpa per barbie mi sta venendo ansia vabbè su me sta andiamo dai forza gnam 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 questo è lo stage dove registra quella mano pensava di vedere il vostro alessandro il bruco ma il vostro alessandro è più intelligente di voi che sempre ah incredibile godetevi i vostri video incredibile il vostro alessandro il bruco non pecca mica di intelligenza bisogna far godere le preghe prima di ammazzarle capito incredibile fate registrare i vostri video incredibili perché saranno gli ultimi che farete incredibile ci vedremo presto cari miei ciao